Questa è una cartina che mi hanno mandato gli amici turchi. E' chiaramente ripresa dalla mia, che abbiamo visto prima, però è scritta in turco, vedete che... non so neanche cosa significa, sono parole italiane, parole... è presa comunque dalla mia cartina. Ma l'hanno mandata loro, che accettano queste teorie, come le accetta Dimitrino Amitova, l'archeologa bulgara, che riconosce che Sofia, l'antica sardica, fu costruita dai sardi, che costruirono anche il Pozzo Sacro che c'è a Giarlo, a 50 km. Un archeologo bulgara, che è venuto in Sardegna, ha scritto un libro su queste cose, che mi ha regalato, è scritto in cirillico, che non capisco, però è tradotto anche in italiano, e quello lo studiamo. Poi c'è Giuseppe Stramboni in Corsica, che scrive queste cose, insomma, ormai in Europa. Questo è l'ultimo documento che vi voglio proporre, perché è fresco di... chiamiamola scoperta. Allora, io ero... sono andato a Cabras per vedere un reperto, che presenterò nel libro, che spero che esca quest'anno comunque scritto. Ho trovato un altro oggetto gigantesco, però è Fuglia. Uno oggetto. Devo spiegare cos'è l'oggetto a qualcuno, no? Sì. L'oggetto, oggi è il tuo come lo chiamavano i... o Zed, come lo Zed anche, in Egitto, è rappresentato in tutti i geroglifici, lo trovate dappertutto. Mario Pinker l'ha messo all'interno della grande piramide, eccetera. È la spina dorsale di Osiride. Questo Zed determina le epoche, e può essere... l'abbiamo trovato a tre livelli, a quattro livelli, a quattro anelli... a cinque livelli e anche a sei. Diciamo sei è del periodo di adesso. Il quinto mi sembra stato ammesso nell'era di Cristo, per intenderci, l'avvento dei pesci. L'altro al tempo di Sargon, cioè al tempo di... di un indiano, adesso non mi ricordo. Comunque, è questo oggetto. È solo in Egitto. A Oristano hanno visto conservato uno, fatto a pezzi, però ha i livelli ancora, ne manca la base, ed è buttato lì, non sanno cos'è. Io gli ho detto, guardate che pubblicherò fra poco e vi dirò cos'è. Lei non può pubblicare. E chi me l'ha detto? Dice, deve chiedere l'autorizzazione. Ma se avete buttato lì su un mutronaggio, ce l'avete senza... un pezzo di un coccio senza nessun valore. Vi sto facendo un piacere. Non sanno cos'è. È un oggetto. Comunque, io sono andato per vedere questo. Il mio amico mi ha ospitato a pranzetto. Andiamo a Oristano, perché questo è Oristano, questo ve lo posso dire, al museo di Oristano. Arriviamo lì. Torre di Babbelle, subito all'ingresso. Mesopotamia, Sardegna. Sono a casa mia qui. Ho chiesto, ho detto, scusate, cosa c'è, una mostra degli assidi, dei mesopotamici? Eh no, è un paragone, sa, il diluvio, la crescita dell'umanità. Quindi trovo qualcosa di parallelo. Ma no, sa, la compagnia... Non c'era niente, tutta roba felice. Comunque abbiamo trovato questo. Allora, questo reperto è un'urna funeraria. Io quando l'ho visto ho detto al mio amico che aveva il pietrusco di Cavra, di Oristano, la maniera della fotografia, ho detto, fammi una bella foto e fotografa anche la didascalia. Ha detto, mi sembra, o è etrusco o filisteo questa cosa. A noi come facevi a saperla? Un'impressione, così, ma non so quale dei due. Dice, è palestina, è filisteo. Ah, e che ci fa un'urna cernilaria filistea in Sardegna? È stato trovato a Navui, Neapolis. Leggi un po' la didascalia. Il frammento diurna fittile configurato al volto umano, eccetera, eccetera, decimo secolo avanti Cristo. Ah, ah. Queste città della costa sono state costruite nell'ottavo secolo dai Fenici. C'è qualcosa che non quadra. Tanto cosa ci facevano i filistei a Navui? E come poteva esserci un'urna funeraria a Navui nel decimo secolo se Navui non esisteva? Fini della trasmissione. Tutte le domande che volete, eh, sì. Io ho finito, grazie. Allora, che i libri di Leonardo Melis in effetti mi stanno restituendo la dignità di un popolo, del popolo sardo. Mi stanno a me personalmente restituendo la dignità del popolo sardo. e alla Sardegna stanno restituendo il posto che merita nella storia. Scritto tutto grande fra i grandi della storia, cioè egiziani, romani, greci, eccetera. E se quelli si chiamano così, egiziani, romani, greci, perché noi non li possiamo chiamare serenamente sardi o Shardana che, se vogliamo, va bene. Allora, in questo senso qui è per questo che io ho cercato, sperato anche di potervi trasmettere questo mio entusiasmo, questa mia curiosità nei confronti di questo popolo che ci appartiene, che siamo noi. E che quindi, insomma, io spero di essere riuscita in questa cosa. vi ringrazio di essere stati qui ad ascoltarmi. Grazie di ascoltare Leonardo. Adesso Paola passa col microfono. Chi vuole fare una domanda la può fare anche stando seduto, così non ci stiamo a... Per chiederle, dottore, soltanto una cosa. Se è vero che la scrittura è stata inventata, anzi, perché hanno trovato un documento nell'antica Mesopoli, nell'antica Mesopotamia, hanno trovato un documento datato 4.500 a.C. Infatti, segna il passaggio dalla preistoria alla storia. Benissimo. E se i Cerdania appunto costituivano la guardia reale del faraone Ransete III, successore del grande faraone Ransete II, bene. Come mai i Cerdania non hanno mai imparato a scrivere? Non è rimasto niente. Documenti che affermino ciò che lei così ampiamente e dettagliatamente ha illustrato. Nulla, assolutamente nulla. Giovanni De Murtra, rispondiamo a Giovanni. Allora, lei ha fatto una domanda precisa. Come mai i Cerdania non scrivevano? Io pensavo di essermi spiegato, probabilmente mi sono espresso male, e ci vorrebbe comunque una serata apposta per la scrittura, pensavo di aver spiegato che i Cerdania scrivevano. Ma il fatto che noi non abbiamo dei documenti cosiddetti ufficiali che rimangano come un poema numerico o un Eneida o cose del genere, non vuol dire che non scrivessero, tant'è vero che noi dei fenici che avrebbero inventato la scrittura non abbiamo nessun documento. È giusto per citare una cosa. Ce l'hanno i greci, ce l'hanno gli egiziani, ce l'hanno altri popoli, i liassiri che rendicontavano tutto. Loro probabilmente usavano la scrittura per far di conto, cioè per li dispensavano. Non li interessava né di scrivere poemi né di lasciare documentazione della loro storia. Ma questo non vuol dire che non esiste, perché abbiamo trovato i documenti. Insieme a Gigi Sanna noi abbiamo fatto un'interpellanza che era nelle mani dell'ex ministro della cultura Bondi, ci ha risposto il suo sottosegretario, di quattro documenti che erano spariti, documenti scritti, per cui c'era anche il mio documento di Pozzo Maggiore, una barchetta che sta a tetti, un'altra navicella del museo di Oristano e un documento trovato a Mogoro. Oltre a questi quattro che abbiamo denunciato, questa è la parola esatta, ne esistono esattamente a oggi 84, tutti scritti e trovati in Sardegna con quella scrittura. Allora, il problema della scrittura non esiste, perché abbiamo più documenti noi, in una terra così piccola che la Sardegna, di altri, perché, se vogliamo essere onesti, i poemi greci sono stati raccontati oralmente all'inizio, li ha ripresi qualcuno nel sesto secolo, mica 3.000 anni fa o 4.000 anni fa. Quindi, la scrittura chardana, anzi, non voglio dire chardana, dei popoli del mare, esiste, c'è, è documentata, non è riconosciuta, questo è vero, questo lo accetto, non è riconosciuta, perché il coccio di Pozzo Maggiore fu scavato dalla sovrintendenza nel 2006. io ho le testimonianze che usciranno nel prossimo libro e la rendicondazione del direttore a lavori il nome della sovrintendente che è la sovrintendente incaricata, il nome di alcuni operai scavato nel nuraghe Alvu è sparito, perché questa è la parola giusta, anche se adesso l'hanno riportato fuori dopo la mia denuncia e io non l'ho visto comunque perché c'è stata una mostra sulla scrittura sarda adesso la fanno al museo di Cagliari, due mesi fa, se non era un mese fa, non c'era, il coccio di Pozzo Maggiore è stato preso e buttato perché risultava essere un coccio e questo è il guaio dell'archeologia e non voglio offendere nessuno ma la storia non è l'archeologia e l'archeologia non è la storia la storia si fa con un insieme di scienze perché se uno trova un coccio e lo cataloga nel cassetto B della scaffale C della stanza Z del Nora Gugumene quello non è un coccio è un coccio scritto dove c'è scritto Sardana dove c'è l'Alef Senaitica dove ora un archeologo bravissimo nel suo mestiere di archeologo lo cataloga come un coccio che misura tot di probabile età eccetera e finisce lì non essendo né né un linguista né un epigrafico né glottologo chiamiamo come vogliamo non sto offendendo gli archeologi sono indispensabili ma non possono fare la storia come è successo da cento anni a questa parte con tutti i danni che abbiamo visto e che stiamo cercando di riparare e chi ci prova a cominciare dall'amico Bruno Vacca che ha avuto più guai di me viene massacrato come è massacrato Gigi Sanna questi giorni che è stato denunciato per aver trovato un bottone in bronzo e l'ha consegnato ai carabinieri lo stanno condannando a sei mesi di carcere e 800 euro di multa perché non ha consegnato un bottone di bronzo probabilmente chissà cosa diavolo era dimenticato una tasca la consegnante carabinieri lo va consegnando 24 ore dopo alla sovrintendenza è stato denunciato dalla sovrintendente di Cagliari che ha usato degli epiteti io ho la coppia della denuncia io queste cose le dico chiare perché sono realtà di oggi la coppia delle denunce in cui Gigi Sanna è chiamato un sedicente studioso questa è roba da denuncia tu non puoi dire a me sedicente perché mi stai dando del millantatore mi stai accusando di essere un falso Gigi Sanna è un professore che insegna che insegnava adesso in pensione ma sta insegnando di nuovo insegnava al classico quindi questa situazione allora se qualcuno di noi ha il coraggio a Bruno Vacca lui magari non vorrà ma io lo dico gli hanno sequestrato il libro negli anni 80 per una cazzata simile scusate l'espressione a me ne fanno di tutti i colori e gli amici di internet lo sanno quotidianamente mi cercano il personale la famiglia e io sarei uno che vi imbroglia che vi imbroglia per vendere i miei libri per il mio conto in banca quando io ho fatto 40 anni di ricerche a spese mie non certo con la diaria della sovrintendenza a spese mie in giro per il mondo e non chiedo niente a nessuno e non ho carriere e non ho neanche diritti d'autore questo ve lo dico io non prendo i diritti d'autore dal mio editore sono uno scemo questa è la realtà ma come me ce ne sono altri quindi voglio dire ci hanno fatto questi danni non sto facendo un'altra conferenza adesso chiudo questi danni perché anche in buona fede il buon Lillio che è un galantuomo ha fatto montagne di danni perché vedeva la storia dal punto di vista dell'archeologo che è insufficiente la storia la scrivono insieme cosa ne sa un archeologo di lingue mesopotamiche o di antiche religioni o di geologia o di o di tante altre scienze la genetica queste scienze vanno messe tutte insieme per scrivere la storia compresa la storia degli antichi con tutti gli errori che fanno questa è la realtà quindi appunto a me non mi pare che il Shardana che esistono tanti documenti come lei così non mi darà il piano sono ora benissimo mi consenta di avere qualche piccola non mi raccomando piccola e poi dal resto volevo anche dire che la ziggura non ziggura o la ziggura maschina è quella di Monte d'Accolto precisamente i miei avevano un oliveto lì quasi lì quindi conosco quella zona benissimo perché è stato anche il campo dei miei giochi nel periodo estivo bene le posso dire che era un cumulo di pietre anzi non sono state neppure sufficienti quelle pietre che erano mi hanno dovuto portare delle altre con le cave allora c'erano i pirocci e poi i piccani benissimo dalle cave di tupo di legumi quindi è stato ricostruito e poi mi consenta anche un'altra cosa ho finito l'archeologo non fa la storia ma è indispensabile se lei legge i miei libri vede le foto se io dico una cosa e lei mi dice che ha dei dubbi 84 documenti scritti di cui uno uno scritto in cuneiforme ma non trovati da me trovati dalla sovrintendenza come Monte da Codi è stato scavato e ricostruito dalla sovrintendenza non da Leonardo Melis io ho scoperto Pozzo Maggiore l'hanno definito loro Zigurat non io qualcuno lo definisce altare pre-nuragico che non significa niente ma non lo Monte da Codi io l'ho citato per curiosità perché è una cosa della sovrintendenza lo chieda a conto o a loro è roba loro quindi è ancora peggio se loro hanno fatto un danno come quello che sta descrivendo lei è ancora peggio